stavo riflettendo tra me e me archiviato anfield archiviato il liverpool si ritorna a parlare di campionato domenica c'è juventus milan partita importantissima e voglio ritornare su delle parole di un giocatore un ex rosso nero affronterà per la prima volta il milan da avversario stiamo parlando di locatelli e riguardando le sue parole io quelle parole mi ricordo ragazzi quando le ha dette avevo la pelle d'oca alta così non so se si vede in video ma avevo la pelle d'oca alta così ma avevano lasciato di stucco perché era stato emozionante ragazzi lui mentre firmava il contratto con la juve aveva dichiarato è sempre stato il mio sogno sin da bambino giocare con la maglia della juventus no scusate scusate del milan del milan giocare con la maglia del milano con la juventus sennò avevo capito bene è sempre stato il mio sogno giocare con la juventus ma locatelli juventus a mila ma ma da piccolo avevi la mente offuscata cioè deciditi allora se tra qualche anno firmi con l'inter cosa fai il tuo sogno sin da bambino era giocare con l'inter a c milan forza lotta vincerai non ti lasceremo mai non ti lasceremo mai di domenica allo stadio per vedere i nostri eroi non vi lasceremo mai non vi lasceremo mai a c milan forza lotta vincerai fratelli rossoneri bentornati sul canale ma vi avevo già detto di iscrivervi al canale non ve l'avevo detto iscrivetevi al canale mi raccomando fate in fretta perché tra un po il sole mi sta sflesciando gli occhi iscrivetevi al canale è importantissimo è completamente gratuito non costa nulla ragazzi è completamente gratuito iscrizione e lasciate un bel pollicione oggi andiamo a vedere gli infortunati perché voglio capire chi arriverà sano e salvo alla partita di domenica contro la juve perché mancano pochi giorni e poi ha parlato lui ha parlato lui e quando parla lui tutti zitti e moschi nessuno deve dire una parola ha parlato lui ha detto cose molto importanti quindi tutti zitti non dite una parola e ascoltiamo quello che ha da dire ascoltiamo e non ve lo posso fare sentire c'è il copyright se no ci chiudo nel canale adesso ve lo racconto io ha parlato zlatan ibraimovic non era un'intervista del mila non era una conferenza del mila era roba sua roba di marketing roba commerciale ma gli hanno fatto la domanda perché non potevano non fargli la domanda sull'infortunio su quando rientrava e lui ragazzi ha risposto molto intelligentemente da persona matura ibraimovic di dieci anni fa gli avrebbe detto cazzo guardi invece ha risposto molto intelligentemente lui dice non sono superman conosco i miei limiti conosco di avere una certa età e in questo momento dei limiti ha detto la mia testa è più forte rispetto al mio fisico perché lui sa di avere 40 anni sa che si porta dietro questi acciacchi e dice molto intelligentemente a me piace sudare a me piace faticare ma come sento un piccolo fastidio un piccolo dolorino preferisco non rischiare e giocare 10 15 20 partite consecutive al posto di magari avere un piccolo dolore rischiare di giocare poi spaccarsi e stare fuori mezza stagione questa è una cosa molto intelligente ma lo sapevamo tutti e il discorso che facevamo l'altro ieri il fisico di zlatan ibraimovic non possono reggere tutte le partite ma questo lo sa anche lui dice che il suo non è un infortunio è un'infiammazione è un'infiammazione al tendine d'achille è un po' come quando si cerca di curare la pubalgia queste cose ragazzi quindi vale anche per zlatan ibraimovic non hanno giorni cioè zlatan ibraimovic può rientrare tra un giorno tra due tra dieci tra quindici quando passa l'infiammazione zlatan ibraimovic rientra non c'è una tempistica vera e propria quindi lo potremmo vedere in campo domenica come non lo potremmo vedere in campo e lo stesso discorso vale quando uno alla pubalgia quindi zlatan ibraimovic ogni giorno si sta allenando in gruppo sta facendo attività col gruppo ma fa anche solo ed esclusivamente fisioterapia per cercare di recuperare quindi ragazzi questa è la situazione zlatan ibraimovic bisogna monitorare giorno dopo giorno per scoprire se ci sarà domenica discorso diverso per baka yoko e krunic sicuramente questi due giocatori non ci saranno domenica per loro è lunga se ne parla dopo la sosta verso ottobre uno ha un versamento baka yoko ha un versamento al polpaccio quindi finché non si prosciuga questo ematoma non si possono fare esami strumentali per capire veramente il problema qual è e radia krunic arriva ancora dall'infortunio subito in nazionale quindi questi due giocatori ne avranno fino a ottobre speriamo dio la madonna e tutti i santi che fino a domenica mancano due giorni e mezzo non succede più niente ragazzi arriviamo alla partita partita di domenica partita di domenica molto importante molto dura il milan ce la può fare benissimo non solo perché l'anno scorso le abbiamo fatto un culo così a torino ma perché questo milan non è più una sorpresa è un milan che si presenta determinato è un milan che si presenta consapevole della propria forza anche se abbiamo perso all'anfield arena contro il liverpool comunque non ne siamo usciti devastati da quella partita arriviamo da una grande partita contro la lazio arriviamo da tre vittorie consecutive in campionato questo milan ragazzi ormai è consapevole della propria forza e giocare queste partite fanno fanno maturare sempre di più la squadra fanno maturare sempre di più dopo la perdita di donna ruma e cialanoglu tanti pensavano che il milan si rende bullito io vi dico che il milan si è rafforzato perché stando a vedere stando a vedere le prime partite campionato champions league a me risulta che il milan in questo momento perde un donna ruma che va in panchina sicuramente è un grande portiere non posso dire che non è un grande portiere ma non posso dire di aver perso nulla perché maegnan si sta rivelando un paraligone incredibile un grandissimo portiere e che fa anche da regista in difesa quindi come portiere siamo a posto intanto quell'altro è lì a guardare i suoi compagni che giocano a fare la panchina per l'ennesima volta cialanoglu non ne parliamo non ne parliamo proprio mi tengo tutta la vita questo braim diaz me lo tengo stretto ragazzi questo momento braim diaz vale dieci volte cialanoglu cialanoglu che gli interessi si sono fatti addolcire dalla prima partita perché hanno giocato contro i cadaveri perché il genova non era una squadra che è presentabile alla prima partita e cialanoglu ha fatto quello che voleva da lì è sparito cialanoglu le tre le ultime due partite di campionato ha fatto cagare l'ultima addirittura il gol del 2 a 2 è stata colpa sua che si è fatto saltare come un brocco dal giocatore della sampdoria che poi ha crossato è andato proprio a farfalle in champions league era un fantasma ragazzi io mi tengo tutta la vita questo braim diaz il nano pazzo forza diavolo iscrizione al canale oggi video corto video breve tanto ne parleremo ancora domani poi domenica ci saranno altri video quindi mi raccomando sempre forza diavolo iscrizione al canale e locatelli deciditi che squadra vuoi tenere faccelo sapere basta che alla prossima squadra che cambi non dici che da piccolo ti favi quella ciao